...un po' quello che è stata la volontà delle famiglie interessate nello scombero coattro di un cattolo due giorni fa dal comune di Carato, signor Stefano, anche perché in prima battuta quando abbiamo convocato il sindaco al comune ci è sembrato un po' che le volontà di queste famiglie non siano uscite del tutto in giro e questa è una piccola critica che mi dovete consentire anche agli organismi di stampa, qui non abbiamo una trattativa in corso, qui abbiamo espresso semplicemente delle volontà, queste volontà sono state spiegate precedentemente appunto dalle persone interessate e per quanto riguarda la risposta del comune c'è arrivata solamente la carta che notifica questa esecuzione di sgombero coattro, non sappiamo attualmente se sono state assegnate delle case, non sappiamo come si sta muovendo il comune in questione, però la cosa che vorremmo ribadire è questa, innanzitutto che le case devono essere assegnate di forma definitiva, perché queste persone erano assegnatari degli spazi sotto sequestro, per cui queste sono le volontà più importanti che si dovrebbero rispettare, innanzitutto si richiede ulteriormente la possibilità di avere un'abitazione sostitutiva di forma definitiva, cioè che non siano hotel, bed and breakfast, affitti di un anno, due anni, la cosa più importante è che giustamente dopo i precedenti, visto che qui non sappiamo se questa città è completamente pericolante, visto che i strutturi tecnici si divertono a fare queste cose insieme alle ditte appaltatrici, le famiglie qui vorrebbero addirittura visionarne prima queste case e ricevere anche un documento che possa certificare in qualche maniera l'agibilità dei stessi stabili, per evitare di ritornare a fare queste situazioni, è importante anche rispettare la volontà di chi vorrebbe rimanere in città vecchia e anche in qualche maniera muoversi in questo senso, ci sono tanti stabili comunali che potrebbero essere completati con poco e magari assegnare le case a queste famiglie, la cosa che si chiediamo in ultima battuta è quella di far uscire fortemente e chiedere anche una collaborazione vostra su questo, perché la città vecchia è un patrimonio di tutti e non può essere patrimonio solo del primo cittadino che in qualche maniera dimostra di non avere nessuna relazione con lo stato sociale di questo quartiere e non conosce la nostra storia, questo è un problema che affetta tutti, dovremmo in qualche maniera dare un senso di solidarietà a queste famiglie.